ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel la sessione numero sei questa sera con noi tanti artisti per quanto riguarda il festival EMTV Festival qui in Campania precisamente nel Cilento io saluto come sempre subito la prima cosa che faccio la mia compagna di viaggio cinematografico Agnese Mandetta ben trovata buonasera a tutti buonasera grazie per essere qui con noi grazie Gianni e allora stasera tanti ospiti cominciamo subito a presentarvi il primo che è Jean Bourion-Louis che è il regista e lo sceneggiatore del documentario Words of Bandits arriva dalla Francia spero abbia pronunciato bene il suo nome altrimenti mi perdonerà ben trovato Jean ciao buonasera buonasera allora parliamo subito di questo documentario Words of Bandits quindi è un film che ho girato che ho iniziato a girare quattro anni fa l'ho fatto durante due anni e mezzo al confine tra Francia e Italia dal momento in cui hanno chiuso il confine e quindi ci sono stati tutti i migranti che sono rimasti bloccati al confine con altre persone dalla Francia che li hanno aiutati ad attraversare questo confine anche se la legge ovviamente non è ovvio però in Francia era vietato aiutare i migranti ad attraversare il confine era anche vietato aiutarli in generale quindi questo film raccolta le parole di delle persone che siano migranti che provano ad attraversare questo confine anche le persone che li aiutano anche se era vietato al momento perché hanno anche problemi con la polizia la giustizia eccetera molto bene Agnese vuoi tradurre per magari gli ospiti anche se sono tutti capiscono l'italiano però forse il signor Vangelis no no io capisco l'italiano anche grazie ah ok perfetto allora per questa puntata Agnese insomma sei libera di uscire magari a farti un giro a scherzo I'm off bene allora andiamo avanti con raccontare questi film in concorso nel nostro festival e la parola adesso a Vangelis Fampas che è il produttore di un film questa volta un lungometraggio The Life Belt parliamo del film Vangelis sì sì questo film era filmato due anni fa in Grecia da un gruppo molto grande di 200 persone non professionisti del cinema solo i tecnici e anche i due attori primi roli protagonisti erano professionisti e tutti gli altri erano non professionisti era un lavoro di amore di fare una materializzare una storia che è molto contemporanea in Grecia in questo momento era la storia di come si chiamano la storia delle persone della Siria di Afghanistan che vengono in Grecia i migranti i migranti sì sì grazie era una storia di una storia umana di una persona di middle class che non... classe media sì classe media che era come tutti gli altri aveva paura dei stranieri che i stranieri vengono per prendere i lavori dai greci e tutte queste cose ma era una storia della crisi contemporanea questa crisi ha presso la fortuna di questa persona è diventato povero ha pensato cosa posso fare ma forse potevo essere uno di questi immigranti perché tutti gli immigranti possono mangiare e dormire in qualche posto e ha fatto una storia per diventare un un immigrante un sudo immigrante ha imparato la lingua arabe e ha diventato e forse al fine sembra che lui può trovare l'amore anche è una storia dolce comincia dal problema dal problema della crisi e diventa una una storia poco comica ma dolce perfetto la mia compagnia è una compagnia che fa dei filmi fa documentali e tante cose io sono un musicista ma tutta questa compagnia di una di un posto molto industriale di pireo vicino a tena è un posto un posto molto povero aveva tanto lavoro tanti anni fa lavoravano sulla costruzione delle barche grande e adesso non lavorano e l'ho visto come un'opportunità di fare di trovare persone nuove e con talento abbiamo fatto questo film che abbiamo lo abbiamo fatto come post production nel mio studio molto bene grazie evangelis grazie per il tuo intervento per far capire naturalmente anche ai nostri telespettatori chi sono gli autori che sono appunto dietro ai filmati che vedranno poi nel festival e andiamo a conoscere adesso invece l'opera di filippo ruggieri ciao 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 e questo diciamo ovviamente non è una cosa che vuol parlare del lockdown quello volevo contestualizzarlo qui perché lo stiamo vivendo e quindi di conseguenza oggi lo viviamo intensamente ma tra dieci anni magari no e quindi restituire alla camera quello che stiamo vivendo ma fondamentalmente quello che volevo raccontare era proprio legato al rapporto emotivo e di coppia di queste due persone che si ritrovano ad affrontare se stessi e nasce come diciamo un dramma però poi già dalle prime riprese diventa una commedia a me fa proprio ridere quando lo vedo mi fa ridere e sorridere fino a e perché sono due bambini fondamentalmente che giocano a fare gli adulti fino all'ultima scena dove esce fuori diciamo l'aspetto emotivo ed esce fuori anche il messaggio ovvero che nel momento in cui si sceglie che si sceglie in bene o si sceglie in male comunque si è liberi finalmente quindi è un discorso di quando arriva il contatto il confronto reale non si scappa più è lì che siamo liberi quindi è un inno alla libertà bene molto bene bellissimo complimenti grazie grazie adesso la parola invece a lorenzo mariotti anche egli nella sezione short film con il titolo netti e vi chiedo scusa per la location un po oscura ma vediamo che ho appena uscito da lavoro quindi vi chiedo anche scusa per l'assenza del coautore che è Manuel Faticoni che purtroppo non è proprio essere presente questa sera allora sì vi ringrazio ulteriormente per questa opportunità io e Manuel siamo felicissimi proprio siamo al setting o cielo perché noi in realtà amiamo il cinema e abbiamo iniziato da pochissimo l'avventura di fare cortometraggi quindi per noi insomma essere stati presi in considerazione è già una vittoria stratosferica allora per quanto riguarda netti dunque anche nel nostro caso non vogliamo assolutamente parlare del lockdown il film nasce durante sicuramente il lockdown si fa in quanto mai portavoce di una serie di suggestioni una serie di pensieri che possono magari essere nati in quel periodo e abbiamo voluto usare la fantascienza perché con quel genere in qualche modo oltre a quello che può essere l'impatto visivo oltre a quella che può essere l'emotività iniziale poi si cerca in quanto meno di far stratificare gli argomenti affinché diventino un motivo di riflessione diciamo che la storia di per sé semplice cioè questo uomo che noi chiamiamo l'uomo con la U maiuscola che si risveglia in questo cubicolo apparentemente fantascientifico insomma anche un po' decadente dopodiché viene in qualche modo accolto da una voce femminile accogliente molto sensuale sinuosa che lo aiuta lo aiuta nella esistenza quotidiana gli spiega che l'esistenza come la conosceva prima è finita perché sembra che almeno a quanto lei gli racconta inizialmente che c'è stata una invasione aliena che non si può uscire causa questa presenza di queste creature che hanno avvelenato il pianeta e quindi di conseguenza lui deve restarsene chiuso dentro e lei lo aiuta lo aiuta e gli fornisce tutti gli strumenti possibili affinché la sua permanenza sia il più piacevole possibile però tuttavia il protagonista a un certo punto si stanca di questo perché chiaramente non basta non basta non gli basta c'è quel senso di libertà innato che forse all'uomo di voler sempre staccare via qualunque tipo di catena sia fisica che psicologica o culturale voglio fare l'ultimo giro con agnese che deve fare ancora l'ultima domanda e pregherei ai nostri insomma ospiti di rispondere in due minuti perché poi dobbiamo passare alla prossima sessione di interviste prego agnese dunque questa domanda è per il signor fan pass come come va la distribuzione delle delle opere cinematografiche in in grecia allora c'è un grande problema non ci sono delle sale cinematografiche che lavorano in questo momento nessuna siamo in lockdown per quasi cinque mesi adesso tutti i film sono aspettando aspettando stanno aspettando il momento che aprirà una opportunità speriamo tutti che nell'estate sarà l'opportunità di forse progettare per la prima volta fare le premiere nell'estate in grecia ci sono tante plateforme online online e anche per la televisione terrestriali che hanno fatto una cosa come come netflix sì tutti 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 le stazioni terrestriali fanno una platforma come pay per view stile o anche libero contento libero ma in questo momento è la l'ultima speranza forse ok per jean anche grazie grazie signor fan pass jean potresti rispondere anche tu a questa domanda come va la distribuzione del materiale cinematografico in francia ma in francia è la stessa cosa nel senso che da da ottobre sono chiusi il cinema e quindi ma poi era anche chiuso prima sono stati aperti durante l'estate però l'estate non è il momento in cui andiamo in più al cinema quindi la situazione è la stessa diciamo però io sono stato abbastanza fortunato perché il mio film è uscito al cinema all'inizio a inizio 2020 quindi per due mesi ho avuto cioè ho potuto incontrare un po il pubblico però poi si è smesso tutto ma da un anno incontro un pubblico diciamo virtuale c'è via il computer però ovviamente non è la stessa cosa però è così bisogna adattarsi bisogna evolvere assolutamente sì allora allora abbiamo ancora qualche minuto facciamo rispondere anche a filippo e a lorenzo sulla distribuzione su su eventuali diciamo programmazioni che hanno già avuto con il loro i loro cortometraggi o che avranno magari in futuro oltre che a im tv festival sì ovviamente in questa fase proiezioni roba di questo genere non è fattibile diciamo che io non sono uno che ama il mondo della distribuzione perché io faccio il cinema per proprio esprimermi però in questo caso per proprio per una questione di rispetto verso il mio staff che sono stati veramente bravi professionali erano miei cari amici abbiamo fatto per esprimerci appunto a titolo gratuito ho personalmente distribuito questo corto nei vari festival tramite in freeway ovviamente abbiamo già portato a casa sette otto selezioni e una finale in new generation festival di belgrado mi pare comunque è una cosa che faccio diciamo proprio stato per un per piacere di promuovere distribuire e per prendere qualche selezione diciamo che io sono più per la fase espressiva che per quella della distribuzione per quanto riguarda il mondo dei corti poi quando si tratta ovviamente di un lungometraggio un documentario il discorso è diverso però il mondo dei corti fondamentalmente funziona così bene Filippo molto bene diciamo che sei soddisfatto già quando esce dal montaggio il film hai raggiunto il top è terapeutica l'arte per me è terapeutica io perché mi occupo di molte altre cose podcast musica teatro anche quando si potrà quindi di conseguenza è una proprio una questione mia personale ovviamente si spera sempre che selezione dopo selezione si riescono a trovare i fondi per fare un film quello è molto bene Lorenzo un minuto per te Sì io magari evito di aggiungere cose perché più o meno è stato già detto tutto anche io sto facendo il possibile Emanuele per la distribuzione il più possibile online e appunto facendo il più possibile farlo partecipare a concorsi un po' ovunque laddove è possibile laddove possiamo noi nel nostro piccolo però è chiaro che sta risentendo tantissimo della situazione attuale che spero migliori il prima possibile ecco però per ora fortunatamente esiste l'online lo stiamo sfruttando il più possibile per una distribuzione più capillare possibile ecco perché anche quello che interessa a noi è che arrivi il nostro messaggio quello sicuramente Molto bene allora siamo in conclusione io come di consueto ringrazio innanzitutto la mia compagna di viaggio Agnese Mandetta Grazie a te Gianni, grazie a tutti, complimenti a tutti per i progetti Ringrazio Vangelis Fampas Jamboyron Lauis Filippo Ruggeri e Lorenzo Mariotti Grazie a voi Grazie mille a voi Grazie infinito Grazie mille a voi 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 Grazie a tutti.